Almeno uno ve lo devo inquadrare, uno dei magnifici rotoli di papiro srotolati, scusate che avevo le parole, che contenevano la preghiera per il passaggio nel dal di là del defunto. Io avrei una tale curiosità nel sapere cosa ci fosse scritto e i dettagli degli animali sono sempre paurosi. Ovviamente tutte le teste che figurano sembranze umane animali, divinità varie alle quali si rivolgevano. I passaggi della vita che era sulla terra e poi la navigazione per l'altra vita. E' un'altra sola. 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 E' un'altra sola.